lorenzo frattino risicoltore vercellese una domanda quando si usa esattamente lo xadia zone si può usare in due maniere diverse in due metodi diversi uno in presemina in asciutta essendo specialmente una zona di baraggia dove i terreni sono molto sortumosi e abbiamo anche problema ad entrare con i trattori prima 48 ore prima dell'allagamento si procede con irrorare il terreno con l'oxadia zone oppure con risaia allagata con le bocchette di scolo giustamente chiuse per non inquinare niente e si fa direttamente in acqua questo previene molto molto la nascita di erbe infestanti